Eccolo qua, sono arrivati l'uragano, adesso ho lasciato il grano fuori, i più grandi ventilatori mai visti, eccolo qua, con le ruote, adesso le ruote non le abbiamo montate, vi voglio far vedere che razza di ventilatori potete arrivare a trovare dalla carica. Ventilatore uuragano, ventilatore industriale, va bene, per parchi, giardini, è regolabile in altezza, ha le ruote per spostarlo, è alto un metro, quasi, 97 centimetri, e adesso proviamo ad attaccarlo, tenetevi stretti che io provo ad attaccarlo, tenetevi stretti alla sedia. L'uragano della CFG, maniglie regolabili, pale da 82 centimetri, 3 velocità, tutti in alluminio, adesso lo attacco. L'uragano della CFG, eccolo qua, che parte, velocità piccola, adesso lo lasciamo prendere, media, massima, eccolo qua. E' partito, mamma mia, mamma mia. Disponibile, uuragano 82, Baccari, elettro casa, crema ancora, arriviamo ad avere i maxi ventilatori, quest'estate staremo freschi. Ho, 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 ho.